per i miei amici novicini questo è un salamino fatto 60 giorni fa come il grasso ho usato solamente la parte della gola ho usato la parte della gola e ho usato 70 per cento vola 70 per cento parte madre in questo caso prosciutto 60 giorni bello dura che perché è piccolino e andiamo a tirare e voilà ho messo dentro del finocchietto ho messo dentro del brebby 22 per cento di sale per kg 3 grammi di pepe se volete fare un salame simile come nel video che verrà adesso contattatemi mi farò delle consulenze per cercare di farvi realizzare magari un vostro sogno un vostro desiderio quello di fare dei salami dei salumi delle pancette dei capocolli che ci metteremo d'accordo fatelo mi aspetto il fatto che ci sia il grasso di gola lo rende molto morbido buono grazie bravo la prossima